Volevo ringraziare Andrea Concia e Giuseppe Morello non solo perché hanno riportato alla luce il palazzo della memoria, ma anche perché sono stati così coraggiosi da divulgarlo. Io potrei davvero spendere così tante parole per far sapere a tutti quanto loro mi hanno aiutato, quanto hanno scombustolato la mia vita e quanto hanno cambiato il mio modo di vedere e percepire la realtà. In realtà io vorrei raccontarvi una storia, una storia che fa da testimonianza e anche da risposta ad alcune delle affermazioni che sono state fatte contro Giuseppe Morello del tipo, eh sì Giuseppe ho capito che il palazzo è uno strumento favoloso, molto utile, però alla mia facoltà non si può applicare perché io studio ingegneria, perché io studio lingue, perché io studio letteratura e non posso perdere il mio tempo a creare immagini calde e coccolose, ma devo fare dei raggiudamenti e di qua di là. Ecco allora vi racconto una storia. Questa storia ha come protagonista uno studente universitario di nome Francesco, che dall'altra parte conosco molto bene e questo ragazzo frequenta la facoltà di lingue e letterature straniere, studia inglese e arabo e ad un punto della sua vita ha scoperto per caso metodo universitario. Solo che mano a mano che passavano i giorni lui vedeva i commenti su Facebook e c'era gente appunto che diceva queste cose, cioè sì non si può applicare perché tutte affermazioni che sembravano quasi delle scuse e tali sono. E lui si è posto una semplice domanda, ha detto ma è possibile che tutti questi ragazzi dicono che a determinate facoltà si può applicare e ad altre no? Io faccio lingue, ecco perché non posso applicare il palazzo alla mia facoltà. Cioè proviamo, vediamo un po' che succede. E quindi appunto ha fatto questa cosa, cioè ha applicato il palazzo della memoria alle lingue che stava studiando, soprattutto ad arabo. Ora voi ben capite che arabo non è italiano, quindi cioè è una delle... ma poteva benissimo essere anche cinese, però è una delle lingue più difficili al mondo, una lingua che ha un alfabeto completamente diverso rispetto all'italiano, e l'ha applicato, ha detto va, appliciamo il palazzo. E malamondo che passavano i giorni, le settimane, si guardava intorno e vedeva che i suoi compagni di corso avevano così tanti problemi nell'andare avanti, cioè proprio li vedeva impantanati come se stessero andando avanti su una strada sterrata di campagna quando lui, guardando a se stesso, sembrava che andava su un'autostrada con la quinta su una Ferrari, e dice ma è possibile che questi miei compagni di corso hanno così tanti problemi? Quando in realtà siamo partiti dalla stessa linea di partenza. Lui alla fine ha continuato ad applicare il palazzo, però si è reso conto che il palazzo non era l'unico strumento che gli poteva permettere di acquisire la lingua, perché ora ci vuole, la lingua non si impara, la lingua si acquisisce, così come tutti noi abbiamo acquisito l'italiano. E quindi ha iniziato a farsi proprio un programma, nel senso dire ok, il palazzo lo applico ogni santo giorno della mia vita, quindi ogni mattina in cui mi sveglio applico il palazzo, però non basta. Cioè insieme al palazzo devo inventarmi qualcos'altro. E quindi che cosa faceva questo ragazzo? Ogni mattina in cui si alzava faceva mezz'ora di ascolto di arabo, poi applicava per una venti anni minuti il palazzo, poi gli faceva un'altra ora di ascolto di arabo e poi si prendeva il... quando utilizzava il palazzo in realtà palazzava diciamo 15 parole ogni giorno e poi dopo aver fatto un'ora di ascolto di arabo prendeva il quadernino e scriveva delle 15 frasi in arabo utilizzando le parole che aveva palazzato. Con il passare dei mesi vedeva che, sempre riguardando ai suoi compagni di corso, vedeva che lui era avanti proprio due anni rispetto ai suoi compagni di corso e diceva ma tu guarda un po'. Tutti quei ragazzi che dicevano che non si poteva applicare le lingue, la letteratura, tutte scuse. Ora questa storia è appunto una testimonianza. quel ragazzo in realtà sono io ed in realtà è una storia un po' particolare ma non perché io sono un ragazzo particolare o perché sono un ragazzo speciale o che ha dei poteri fuori dal normale. Sono un ragazzo normalissimo come tutti voi che state guardando questo video ma in realtà ho fatto una semplice cosa. Una cosa che hanno fatto in tanti ma in realtà in pochi rispetto al numero di studenti che ci sono in Italia e nel mondo. Ovvero ho avuto fede, ma non fede in Dio, ho avuto fede in Andrea e Giuseppe. Cioè ho creduto in metodo universitario, ho creduto nel palazzo della memoria, però una cosa fondamentale l'ho applicato. Ma non l'ho applicato così, giusto una volta ogni quanto mi si creava. L'ho applicato costantemente, ogni giorno. E quindi io non voglio con questa mia testimonianza o con queste parole convincervi, io non devo affatto convincere nessuno. Io vi dico solo questo, vi dico di credere in Andrea e Giuseppe, di credere in metodo universitario, di credere nel palazzo della memoria ma soprattutto di applicarlo perché se no l'applicate non vedete nulla. Ora voi potete farci tutto quello che volete con queste mie parole e con questa storia. L'importante è che voi continuate a seguire la strada che vi fa stare meglio. Se voi vedete che con i vostri vecchi metodi state bene, allora continuate a seguire quelli là, ma se volete farvi un favore a voi stessi, credete e applicate il palazzo. Questo.